MSA, Manager Skills Assessment. Quali sono le competenze che trasformano un manager, un imprenditore o un team leader in un vero e proprio leader? Cosa deve accadere affinché un team leader abbia in sé, oltre alla capacità di guidare, quella di valorizzare? La leadership è una parola bellissima che noi della Mariano Rigo SRLS adoriamo. Perché? Perché significa due cose unite insieme, valorizzare e guidare. Più specificatamente, guidare gli altri valorizzando ogni loro talento, ogni loro potenzialità. Questo particolare assessment è dedicato ai manager e agli imprenditori che vogliono trasformare le proprie competenze e le proprie soft skills in vere e proprie guide per i propri collaboratori e per il proprio team. Abbiamo selezionato una serie di skills proprio idonee a fare questa trasformazione e soprattutto a rendere più semplice ed efficace questa evoluzione da imprenditore, da manager a leader. E perché un'azienda dovrebbe scegliere le MSA? Semplice, per individuare il vero leader all'interno di un team e soprattutto sensibilizzare questa figura alle skills necessarie. Quindi creare un programma anche di sviluppo, di crescita sia personale che professionale, affinché il leader abbia un'autorità condivisa, soprattutto sia l'alleato del team, colui che spinge e valorizza gli altri anziché magari creare autorità negativa o distruttiva. Le MSA sono 150 domande che si rivolgono appunto a manager, imprenditori o team leader affinché si possa fotografare le loro competenze iniziali e il livello di attitudine mentale volto proprio a questa figura, per poi sviluppare dei percorsi personali affinché queste skills identificate siano poi sfruttate al meglio e soprattutto cuscite sui talenti della figura a cui viene somministrato il test.